Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Luigi Di Maio e Paola Taverna. Cosa dire? È anche probabile che Enrichetti, già renziano di ferro, abbia in testa una grandiosa idea della politica. È certo intanto che il suo movimento in campagna in modo particolare è più o meno su percentuali da prefisso telefonico. Ora, poiché come ci hanno insegnato le idee camminano sulle gambe degli uomini, la domanda Enrichetti nasce spontanea. Potrebbe illustrare di grazia la sua grandiosa idea politica quanta strada può fare camminando sulle gambe dei quattro voti che si ritrova? Grazie a tutti.